L'importanza fondamentale di Ring è proprio quella di un momento di incontro e di dibattito su quelle che sono le nuove leve per lo sviluppo delle aziende, il marketing, la comunicazione, la creatività soprattutto, la creatività siamo convinti noi di Confindustria Lecce che sia l'elemento fondamentale per avere successo nei mercati del terzo millennio. Sempre di più dobbiamo riuscire a vendere emozioni, a vendere il made in Italy in fondo e questo dobbiamo spostarci sulla parte alta della produzione, del conto economico, quindi mettere valore aggiunto. Questo lo si fa con il marketing, il marketing internazionale, con la creatività, con la produttivizzazione, con il design, con le emozioni appunto. Ed è per questo che come Confindustria Lecce abbiamo proposto l'istituzione di una zona franca dei cervelli qui da noi, cioè la capacità di attrarre i maggiori talenti, noi riteniamo soprattutto di Cina, India e paesi arabi che sono i paesi con il più alto tasso potenziale di crescita per cominciare ad avere qui un melting pot di persone. Riusciremo così sicuramente a conquistare nuovi mercati, a valorizzare al meglio i nostri collaboratori, le risorse umane che sono l'altro aspetto fondamentale per riuscire ad avere successo nei nuovi mercati se non c'è una comunità che lavora insieme, che lavora all'unisono, con una qualità della vita alta e con una soddisfazione nell'esperienza lavorativa difficilmente si ottengono risultati. Quindi io vi dico venite tutti al ring, partecipate perché dal confronto, dagli spunti di riflessione poi nascono le opportunità.